Sono Dan e qui con me c'è... Con me, ciao! Allora, abbiamo iniziato questa... abbiamo deciso di iniziare questa serie sull'FTB che però è craccato da Xtreme Asus perché non ha un account premium di Minecraft. Questa è la versione 1.4.7 e il pack è il Direwolf 20 pack versione 5.3.2. Allora, iniziamo subito a creare il mondo. E lo chiamiamo... Oh, che cacchio l'ha combinato? Lo chiamiamo... Lo chiamiamo... Scusate, il telefono che suona... Come possiamo chiamarlo? Il telefono che suona. Il telefono che suona. No, non mi piace. Facciamo così. Il telefono che suona. Bonus test on. Mettiamo... Che sì, mettiamo. Speriamo... E seperiamo. Speriamo bene. Speriamo bene, dai. Speriamo bene. Create new world. Speriamo che ci... Che siamo fortunati nella creazione del mondo. Niente. Dai. Su. Oh, ecco. Sì. Sì, bella, bella, bella. Ok. E? Il bonus testo è in fondo. Bene. Siamo capitati in un deserto. Ah, devo mettermi un attimo a posto. In Ablen. Ok, config. Tac, zoom. Tac, large map. No. Zoom. Z. Large map, questo. E waypoint, questo. Ok. Exit. Scusate, lag. Ok. A, un altro programma aperto e quindi... Facciamo così. Ok, così un po' meglio. Ah, no, aperto. Niente. Recipe. Allora, cosa c'è dato? Un pezzo di legno. Con cui farci una crafting table. Un treat up. Un ascia di legno. Un piccolo di pietra. Un piccolo... Un altro treat up. Ed è torce. E una cesta. Benissimo. Allora. Vediamo. Bel bioma. Come adaglio. Allora, io so che lì c'è un dungeon nella Towncraft. Che bello. Oh shit. Cacchio. Mi stavo andando a buttare giù. Petrolio. Bene. Se butto giù di qui, muoio più. Perfetto. Perfetto. Come si? No, c'è. Mettiamo più un po' Petrolio. Dai. Rosa. Eh, ma vè, chi se ne frega. Ma... Vabbè, io voglio andare nel deserto perché so che nel deserto si trovano le piramidi. E dentro si ci possono trovare oro, diamanti o quello. Quindi, speriamo di trovarne una. E... Vediamo. Di qua. Invece non trovi niente. Eh, vaffanculo. Grazie. Dai. Dai, portiamo bene. Fortuna. Sto laggando, ti butto. Oh, porti sfiga. Hai portato sfiga, Domenico. Grazie. Aia, porcaccia. Mi vieni. Eh, guarda, neanche una piramide. E poi ti butto sfiga. Mettiamoci deserto, giusto. Che cacchio ho fatto? Deserto. Quando curro lago, quindi camminiamo. No, non è detto. Sì che è detto. Sì, stavo dicendo che non... Oh, vi sono il carbone. Prendiamo il carbone. Oh, solo uno. No. Ah, poi... Adesso gli inizi non sono dei più... Interessanti. Interessanti, bravo. Quindi, c'è, in genere si va in caverna, si costruisce una casa. Ditemi se volete gli episodi in caverna, tipo... Oppure se li taglio. E... Niente. Perché? Magari il primo... Perché ci sono davvero tanti minerali in questo modpack che... Si riempie l'inventario, però. Ai 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 ai. Ok. Adesso io volevo andare... Ma torno a una fila alto. La da quel dungeon della Towncraft. Sperando che i Wisp non ci rompano... Le scatole. Io qui si fai vestito. Se no, io sto morendo di fame, però. No. Oh, cavolo. C'è l'acqua là sotto. No, c'è il ghiaccio. Aia. Ah, ok. Più si aveva ritorno. No. Senti, porta a te a spiegare. Questo lag, però. Devo cercare di risolvere più presto. Perchè è sulci da andare avanti così. Oh, quando è che arriviamo, però? Speriamo di trovarci dolcibola. Secondo me non hai speranze. Sperano di risolvere più presto. Senti. Sei vinta. Oh, cavolo. Se c'è il Wisp, madonna, me ne vado. Ce l'ho il waypoint della morte qui. I cosi. Sì, enabled. Sì, ma io come ci arrivo là adesso. Ma dove? Ma là. Dove c'era... Dove dove dovevo prendere quella cistola? Sì, ma cos'è sto balzo che non si vede niente? Oh, che cazzo è? Metto una torcia e si illumina il mondo. Ah, tolgo. Guardate là. Vabbè. C'è come una torcia e illumino il mondo. Bello. Fai mi farò un rifugio nella montagna, decido. Il fuggio è in un caso. Facciamo così. Rifugio. Allora, io direi di farcelo proprio piccolo piccolo per iniziare, perché poi bisognerà trasferirsi subito in una casa. Ok, io farei così. Anzi, questa qui non la prendo, questi pure. Mettiamo a terra la crafting. Facciamo una fornace e gli oggetti in pietra. Facciamo già un piccone e un'ascia. Fornace. Ok. Ho combinato un casino. Anzi no, non mi piace. Sì, mi piace. Poi... No, vorrei fare cesta di minerali, anche perché... qui ci esce un'ascia. È una spada. È una spada, dai. No, no, niente. Allora, io prendo questo legno perché non ce n'è altro, anche se lo spruzzo non mi piace molto come legno da costruzione. Non si può diminuire niente a questo. E questo. Ma non cambia niente. Allora, facciamo giù un'altra cesta. Con la di minerali. Ok, e poi ci facciamo una porta. No, vabbè. E non ho presso il plate. Allora, oddio. Non ho presso il plate qui. La torcia lì. E la porta. Sì, mi piace. Poi quel carbone là lo verbo a prendere. Adesso voglio andare in giro in cerca del cibo. E di su. E di su. Andando da là. Voglio fare una cosa suicida. Buon perfetto. Appoggiare tutto qui. Puoi andare là? Puoi suicidare. Sì. Non a suicidare proprio. E mi muore. Eh, anche per me. C'è già una specialità di croce. Allora, vediamo cosa c'è dentro. E scappiamo. Scacchio. Scacchio, però. Vabbè, pensavo molto peggio. Spazzo, c'è quella lì. E quella là. Là. E che cos'è? È una di... È uno wisp. Un wisp. Un wisp. Un wisp. Un wisp. Allora, vediamo cosa abbiamo trovato. Allora. Un bel po' di pane che potreste mangiare. C'è un po'. Non andiamo a fare, non andiamo a fare. Un bel po', due pezzi. Un bel po' di pane che potreste mangiare. Poi, ti incopero ferro. E secchio, un cd. Ma non penso che sprecherò un diamante per farmi un... Un jukebox. Perché non ne hai diamanti? Sì, ma in futuro. Ma bene. Intendo sì. Madonna. Qui si prende dell'acqua a ghiaccia, però vale la pena provare. Sì. Dovresti prendere un bel pezzi di là, non andrò a dormire. Eh sì, dove? Dovresti prendere un bel pezzi di là, non andrò a dormire. Eh, sì, dove? Eh, le fabbriche. Ah no, no, posso dormire. Quattro, sì. Non andrò a dormire qui. Niente. Ah, capito. Sì che posso. No, sì. Sì, 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 posso dormire. Posso dormire. Vediamo della legna. Sì, è proprio sacrificato qua. Eh, 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 se mi spune dentro, eh, infatti, ma guarda che pirla. Cosa? Oddio. Mi sono spunato dentro al muro e sono soffucato. Non vedere. Oh, qui ci sono dei bastoncini, ce l'ho lasciati io. Ma sono morto, vuoi dire che sono morto o mi ha buttato la roba qua? Non c'è mica il magneto attivo, no. Sono in Rassalto. Sì, ma dov'è che sono morto io? Qui sotto. Eh, è sotto. Oh cacchio. Tu sei bravo, vero? Finché non ti vedo. Ahia. Una tolla. Però forse ho fatto bene a morire. Ho due ossa, bene. Farina d'ossa. Oh cacchio, oh cacchio, ho sentito sparare. Ahia. No, per esempio. Ho letto qui. Oh cacchio. Ma all'arca lo si vuole dire. Ah, mi tornisci, cacchio. Ok, mi sembra la cosa migliore. Ok. C'è che ti ha fatto un po' di vita. Ma non lo stai allontanato. E qui ci... Questa è la camera belletta, dai. No, non posso settarla spesso. Sì, ma questo punto qui poi andrà rimosso. Come il punto della morte. Allora, mettiamo via questo e questo. Dovevo farmi quella roba. Allora. Questa roba. Sì, però con questo lag è impossibile giocare. C'è. Icone, ascia e questa roba sì. Allora, poi prendiamo due bastoncini giusti. Non è vero. Quattro. Due li usiamo per fare... Una cavolata. Ok, adesso già va meglio. Pala. Poi prendiamo quattro pezzi di carbone. Quattro per quattro, sedici più. Perché tre non erano quattro le torce che ti davano al bonus cesto. Brù. Se uno non è usata contro un muro. Ah, c'è ragione. Beh. Passa misteria. Ok, andiamo a prendere dell'acqua. Cosa ho visto? Degli alberelli. No, ho visto l'albera. Ah, ci vuole piccoli di ferro. Allora, il secchio? No. A parte che si potrebbe fare il piccoli di ferro, tra un po'. Ci manca solo un pezzettino di ferro. Una, due. Ok, per questo episodio è tutto. Nella prossima puntata faremo l'orto. Io mi preparo qui dall'acqua, pronta a prenderla, che è di là. Però noi la prenderemo nel prossimo episodio. Grazie per la visione e al prossimo episodio.